Alle mie spalle qui di lato vedete due droni, il primo è una vecchia conoscenza almeno per me perché è il DJI Mavic Pro, il mio drone personale, diciamo così, quello che utilizzo per fare delle belle riprese, per fare delle belle foto, insomma è un drone già di livello semiprofessionale con una certa dimensione e anche con un certo prezzo. Ma oggi non vi voglio parlare di lui, lui l'abbiamo visto in un confronto che abbiamo realizzato un po' di tempo fa tra varie fasce di droni, oggi torniamo a parlare della fascia di droni più economica ma non per forza più scadente, anzi questo esemplare di cui voglio parlare oggi è un drone che per buona parte è realizzato anche proprio da DJI che è l'azienda che realizza comunque i droni consumer e professionali migliori in circolazione. Lui però è un selfie drone, lui è, non è DJI, Tello, è semplicemente Tello, è realizzato in collaborazione con Intel e con DJI da un'azienda separata da queste, quindi ci sono un bel po' di menti intelligenti, di menti capaci che hanno lavorato su questo prodottino qui, un drone da 109 euro o da meno di 100 euro se lo acquistate su Geek Buying dove l'abbiamo acquistato noi, di cui voglio parlare perché è veramente un ottimo prodotto, scopriamolo insieme. Mi verrà sempre da chiamarlo DJI Tello ma lo chiamerò semplicemente Tello anche perché Ryzen Tech appunto è l'azienda che lo realizza ma le somiglianze con un drone DJI ci sono tutte. In particolare questo prodottino qua ricorda tantissimo il DJI Spark, non solo per le dimensioni che comunque in questo caso sono ancora più contenute ma forse per l'abbinata dei colori, questa parte bianca e il resto più scuro, non lo so, comunque esteticamente ricorda tanto un prodotto DJI. Però DJI ci ha messo il suo zampino qua dentro e ne parleremo dopo. Il drone è molto leggero, sono soltanto 80 grammi, non è scomponibile diciamo quindi non potete rifiegare i bracci, non potete rimuovere l'elico, meglio sì le potete rimuovere ma poi non le potete richiudere quindi comunque non ha molto senso anche perché appunto il drone è piccolo e compatto. La confezione è scarnissima, arriva soltanto lui con il cavetto per la ricarica e con la batteria che è posizionata qui dietro, si estrae in questo modo e appunto ovviamente potete munirvi di più batterie perché una batteria sola vi garantirà circa 15 minuti di autonomia che è praticamente la metà dell'autonomia del mio Mavic Pro e di un drone standard però è un'autonomia già molto simile a quella ad esempio proprio del DJI Spark. Una volta rimessa dentro la batteria abbiamo sulla destra del dispositivo il tasto di accensione mentre sulla sinistra abbiamo il connettore per la ricarica della batteria, ricarica che avviene appunto in modo molto rapido, generalmente in mezz'ora lo caricate tutto completamente da 0 a 100 ma il connettore purtroppo è soltanto un micro USB non un USB C che sarebbe stato sicuramente più comodo. Il valore aggiunto però di questa porta rispetto a quella magari che troviamo sul Mavic Pro che è una porta proprietaria è che possiamo caricare il drone semplicemente con un power bank quindi quando siamo fuori non abbiamo bisogno di una presa di corrente ma ci basta appunto un power bank per ricaricare in modo anche sempre molto veloce il nostro drone e avere quindi nuovi minuti di autonomia e di volo. Ma come si accende? Vi dicevo si accende tramite questo pulsantino qui laterale basta premerlo una volta se lo ripremiamo il drone si spegne. Lui non viene fornito con un telecomando quindi come telecomando ora utilizzeremo proprio uno smartphone. E allora eccomi qui munito di smartphone, premo il tasto, vedete c'è questo led frontale che ci segnala lo stato del drone. Adesso sta completando la fase di accensione ed è acceso. Adesso cosa succede? Si va a creare in automatico il drone una rete wifi libera che si chiama proprio Tello. A questa rete che è comparsa ora sul mio iPhone io mi sto collegando in questo momento e fatto questo poi saremo pronti per il controllo del drone ma prima dovremo scaricare l'applicazione ufficiale di Tello che io ho già qui sul mio smartphone. Da questa applicazione noi saremo in grado quindi di controllare il drone appunto mancando un telecomando il tutto è affidato a questo software qui che ora accetto un attimo le condizioni e ve lo imposto anche con lo screen recorder in modo che possiate vedere anche voi quello che succede sullo schermo del dispositivo. Vedete c'è questa guida introduttiva adesso per capire come utilizzare il drone io avevo già configurato l'app su Android quindi posso benissimo saltare questa fase. Ok siamo dentro siamo all'interno proprio del Tello questo se riesco ad inquadrarmi a dovere eccomi qui sono io possiamo quindi procedere con la fase di decollo. Il decollo può avvenire in due modi può avvenire in modo standard semplicemente dando potenza al drone oppure lanciandolo oppure ancora con un decollo automatico semplicemente facendo uno slide sullo schermo proprio come accade sui droni DJI. Però voglio farvi vedere il modo più intelligente e più particolare per il decollo cioè quello lanciando il dispositivo. In pratica si attiva questa modalità in cui per 5 secondi le palle del drone iniziano a girare però a velocità bassissime e lui una volta lanciato poi riconoscerà effettivamente il fatto che è in aria e quindi si deve dare da fare se non cade. Allora vado ad attivare esattamente questa modalità dobbiamo attivarla quindi non è una modalità automatica non basta lanciare il drone ma dobbiamo attivare la funzione throw and go che state vedendo ora. Ok quindi adesso vedete c'è questa icona la premiamo e poi inizieranno a girare le palle a quel punto saremo pronti per lanciare il drone. Palle al minimo ed eccolo qua ora siamo già in aria guardate che stabilità il controllo come vi dicevo avviene tramite lo smartphone. Non so se farete difficoltà a sentirmi quindi provo ad alzare la voce comunque guardate la stabilità questo grazie a dei sensori ottici che ha il drone. Vedete si muove un po' però qui cerca sempre di tornare in posizione. Sensori ottici che ha nella parte inferiore se io vado a mettergli una mano infatti guardate come sale questo è appunto merito proprio del sistema di volo intelligente di DJI. Non c'è il GPS quindi comunque è una piccola mancanza rispetto a droni di fascia superiore però comunque ci sta per un drone così economico. Me lo porto proprio in faccia inizio allora a riprendere in questo momento state guardando una ripresa dal DJI Tello con il casino lì che c'è alle mie spalle ma vabbè proviamo a fare una breve retromarcia verso la fotocamera. Sì anche le bottiglie d'acqua beh devo bere anch'io ragazzi e quindi andiamo un po' su adesso possiamo anche girarci ovviamente riscendo e la stabilità appunto è piuttosto buona. Ah lì c'è il Mavic se l'è inquadrato da solo andiamo proprio verso il Mavic a questo punto dai cercando di evitarmi guardate lui mi passerà vicinissimo ora guardate comunque che stabilità mi è praticamente a pochissimi centimetri e riesco a controllarlo in modo piuttosto preciso guardate qui adesso il mio Mavic visto direttamente dal DJI Tello andiamo in retromarcia e comunque sì ragazzi fantastico non ho mai provato un drone economico così funzionante così maturo ecco facciamolo atterrare può atterrare normalmente o anche in mano allora vado a selezionare la modalità mano e lui mi dice premi ok quando sei eccomi qua quando sei sotto il drone e lui atterrerà quindi poi avete 5 secondi dopo questi 5 secondi lui scende e vi atterra in mano. Le altre modalità quali sono? Intanto direi pausa video e poi facciamo anche qualche foto ho provato il drone anche all'esterno sicuramente all'interno è un po' meglio come situazione perché non essendoci vento essendo lui molto leggero e non avendo il GPS riesce ad orientarsi un tantino meglio. Ci sono i flip gli up and away che è una funzione che c'è anche sui droni DJI più famosi i 360 i circle insomma e la bounce mode la bounce mode è una cosa che non ho capito perché il drone inizia a fare così e voi dovete in pratica abbassarvi e alzarvi. Invece le altre modalità 360 in pratica vi gira intorno la modalità up and away in pratica parte e si allontana cercando di tenervi il più possibile all'interno del campo di ripresa e circle ovviamente vi gira anch'essa intorno. Circle per quanto riguarda appunto proprio il volo in questo modo 360 cerca di registrare un po' più in modo sferico e poi ci sono appunto i flip che dobbiamo provare però una volta decollati e proverò a farlo qui anche se potrebbe essere veramente dannosa come cosa. Allora ripartiamo con il throw and go quindi pale al minimo pale al massimo saliamo proviamo a fare questo flip ho un po' paura slide on the screen to flip ok. Non l'ho mai provato onestamente vediamo cosa succede ora caspita ragazzi ha fatto tutto questo a pochi centimetri da me e con un'ottima precisione un'ottima sicurezza riproviamo fantastico fantastico bellissimo non pensavo ve lo porto un po' più avanti così guardate meglio anche voi i flip e io rischio meno la vita bellissimo veramente bellissimo non pensavo si può fare ci si può divertire con questo drone facciamo un ultimo flip poi basta ok e sto evitando in modo proprio perfetto anche il softbox a cui ci è andato vicinissimo va bene allora mi approfitto a questo punto come l'avevo detto per fare una foto direttamente dal drone allora mi avvicino perché il campo di divisione in pratica per le foto è un po' più ristretto o meglio è un po' più largo quindi vediamo un attimo di fare questa foto ok fatta i video arrivano alla risoluzione hd buttiamo giù il drone potete farlo atterrare è una cosa che non vi consiglio di fare ma anche prendendolo e girandolo verso il basso non vi consiglio di farlo però è un modo che funziona non è proprio il massimo per il drone però se dovesse scapparvi e lo agguantate giratelo verso il basso così si spengono i motori potete considerare compiuto l'atterraggio vi stavo dicendo il drone ha anche questa modalità sport tra l'altro che non è proprio una modalità sport come quella dei droni più professionali ma gli permette di andare molto più veloce di pari passo però questa modalità rende un po' meno stabile il drone quindi io sinceramente non vi consiglio di utilizzarla ma siamo arrivati al momento delle conclusioni su questo dji haitello secondo me è un prodotto veramente da avere non solo perché costa poco e offre tanto ma può essere anche soltanto un ottimo compagno di un drone un po' più professionale ed è per questo che io l'ho scelto da una parte divertimento dall'altra qualità riesco ad avere entrambe le cose riesco a far guidare questo riesco a farlo pilotare magari anche a qualcuno non pienamente esperto senza avere l'ansia magari di poter buttare nel gabinetto in pochi secondi tutti i soldi spesi per il Mavic Pro invece con questo qui che è un drone comunque più semplice da utilizzare soprattutto più sicuro per un discorso di dimensioni di pesi di materiali che comunque mi è caduto qualche volta ho falciato qualche qualche erbetta ma sinceramente le pale sono ok vola ancora benissimo se ti schianti magari a 60 all'ora con un Mavic Pro non so cosa ne resta di quel drone quindi a prescindere da chi siete da quello che volete da quello che cercate in un drone secondo me è un prodotto valido valido perché costa poco l'abbiamo già detto l'ho ripetuto e offre tanto offre tantissimo al sistema di volo di dji che si fa sentire si vede si riconosce ha comunque tutte le modalità che abbiamo visto ha comunque anche una buona qualità video e foto anche se i video sono solo in hd e le foto per un uso social vanno bene altrimenti basta non hanno più senso come mancanze diciamo rispetto ad uno spark ad un Mavic Pro cioè ovviamente il fatto che la fotocamera non è modificabile non è tiltabile quindi abbiamo soltanto la visione dritta non possiamo andare ad interagire su quell'aspetto però comunque per il resto è comunque un drone che veramente mi è piaciuto mi ha divertito soprattutto e credo che sia questo in primis l'obiettivo di un prodotto come questo divertire e qui sicuramente c'è tanto divertimento ad un prezzo contenuto prezzo che sui listini italiani dai siti italiani dagli shop dai negozi fisici in Italia è di circa 110 euro ma se lo acquistate da Geek Buying come abbiamo fatto noi lo pagate 20 euro in meno praticamente perché adesso viene venduto sui 92-93 euro con qualche offerta lampo magari riuscite a pagarlo anche meno di 90 euro ed è veramente un bel vantaggio certo attenderete qualche giorno in più niente dogana però potreste appunto risparmiare delle belle cifre che su un prodotto già così economico può essere un vantaggio sicuramente apprezzabile ma ragazzi a questo punto io mi vado a fare ancora qualche minuto di volo la batteria era verso il 20% quindi ho ancora qualche minuto qualche breve minuto di volo me lo vado a fare con il mio tello voi nel frattempo recatevi in descrizione perché lì c'è la recensione testuale completa con tutte le informazioni aggiuntive su questo drone quindi se siete interessati andate a guardare anche la recensione scritta non mi resta quindi da far altro che salutarvi augurarvi un buon proseguimento noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti